Domus Wall è un programma per il progetto di edifici in muratura ordinaria, armata e di sistemi a blocchi cassero in cemento debolmente armato. È caratterizzato da una grande semplicità e velocità di esecuzione. In questa introduzione al programma mostriamo le funzioni principali su un edificio esistente del quale abbiamo importato il disegno architettonico. Introduciamo graficamente un setto nella modalità spessore costante e direzione variabile, cliccando con il mouse nel punto di inizio e trascinando fino al punto terminale. Nella finestra scegliamo il materiale e controlliamo gli altri parametri quali dimensioni e forze applicate, quindi confermiamo. Cliccando sull'apposita icona scegliamo la modalità a direzione costante e spessore variabile. Introduciamo un setto in questa modalità. Anche qui controlliamo i parametri proposti come default. Le modalità spessore costante e direzione variabile e direzione costante e spedore variabile possono essere alternativamente utilizzate anche in fase di modifica. Prendendo il setto per uno spigolo ne modifichiamo lunghezza e direzione lasciando invariato lo spessore. Adesso cambiamo la modalità e modifichiamo lunghezza e spessore lasciando inalterata la direzione. Un doppio clic sui setti inserito apre la relativa finestra per modificarli. In questo caso li cancelliamo. Cancelliamo anche il secondo setto. I carichi si introducono con aree di carico associate ai setti. Domus Wall provvede all'analisi dei carichi partendo dalla copertura fino alle fondazioni. Attiviamo la visibilità dei carichi. Un doppio clic sul bordo di un poligono di carico permette di vedere e modificare i carichi e il tipo di carico. I tipi di carico sono gestiti e creati automaticamente. Aggiungiamo il carico di un balcone. Selezioniamo il setto di riferimento e scegliamo l'icona dei carichi rettangolari. Tracciamo il rettangolo di carico e, nella finestra dei carichi definiamo un nuovo tipo terrazza esterna con i relativi valori dei carichi, colore di riferimento e coefficienti psi. Il tipo è automaticamente aggiunto alla lista dei tipi in modo che sia utilizzabile successivamente. Selezioniamo un altro setto di riferimento e aggiungiamo un altro rettangolo di carico. Al nuovo rettangolo di carico assegniamo il tipo terrazza esterna. L'area di carico può essere modificata spostando i vertici con il mouse e, tramite un doppio clic sui vertici, modificandone le coordinate. Il doppio clic permette di modificare o di assegnare un altro tipo. I poligono di carico sono cancellati selezionandoli e premendo il tasto di cancellazione. Vediamo il secondo piano. La finestra dei dati generali permette di introdurre tutti i parametri necessari per il calcolo dell'edificio, quali i parametri sismici, categoria del suolo, parametri della struttura, vento, tipo di calcolo lineare o non lineare. Clip sull'icona dei piani visualizza la finestra, con le quote dei piani, se rigidi o flessibili e se c'è il piano interrato. La visualizzazione dei risultati permette di aprire la finestra con tutti i risultati. I risultati sono mostrati anche graficamente in pianta con dei colori. I colori celeste e blu mostrano tutti i setti verificvati. Adesso modifichiamo l'accelerazione sismica. Eseguendo ancora il calcolo vediamo che alcuni setti sono rossi, per cui l'edificio non è verificato. Il risultato dipende naturalmente anche dal tipo di calcolo. Quello effettuato fino ad adesso era lineare. Proviamo a impostare un calcolo non lineare pushover. Anche in questo caso l'edificio non è verificato perché uno dei setti è colorato di rosso. La relazione mostra i dettagli delle verifiche. La visualizzazione dei vari tipi di verifica può essere abilitato o disabilitato dal menu risultati, con aggiornamento immediato sia della grafica che delle relazioni. Aumentiamo ancora l'accelerazione sismica in modo da evidenziare ancora di più la mancata verifica dell'edificio. Dopo il ricalcolo la maggior parte dei setti sono colorati di rosso. Nella tabella degli indicatori globali della sicurezza è possibile vedere, in poche righe, la capacità e la vulnerabilità sismica dell'edificio. Vediamo che il tipo di pushover utilizzato è quello specifico per gli edifici in muratura descritto nella circolare del 2009. Questo tipo, contrariamente a quanto avviene per il pendolo equivalente, permette di capire meglio dove intervenire nel caso l'edificio non sia verificato. In Domus Wall è possibile inserire anche le fondazioni, che in questo caso hanno la stessa larghezza delle murature. Tramite un doppio clic vediamo le caratteristiche di un ADS. Il programma calcola le pressioni trasmesse dalle fondazioni al terreno, visualizzabili in fondo alla relazione di calcolo. Domus Wall gestisce diversi tipi di strutture murarie, selezionabili dal menu Risultati. È possibile modificare il tipo di muratura ed effettuare confronti tra soluzioni diverse. Vediamo la finestra dei dati generali in caso di muratura armata. Rispetto alla muratura ordinaria sono da aggiungere i dati relativi alle armature. Grazie. Nella relazione di calcolo in questo caso sono visualizzabili anche le armature aggiuntive calcolate dal programma, oltre naturalmente a tutte le altre verifiche globali e locali previste dalla normativa. Altro tipo di calcolo è quello per i sistemi a blocchi cassero, con cemento debolmente armato. Alcuni sistemi di questo tipo sono il BioPlus della Paver, l'Isotex, e il LegnoBlock, delle società omonime. Ecco la finestra dei dati generali per questo tipo di calcolo. Oltre ai vari dati in comune con gli altri tipi di calcolo, devono essere inseriti i dati delle armature diffuse e delle armature concentrate. Per le armature diffuse è necessario definire se poste in una o due file, il copriferro, il diametro e l'interasse. Il coefficiente di riduzione dello spessore tiene conto dei collegamenti fra le die facce dei blocchi cassero. La relazione di calcolo mostra i risultati di tutte le verifiche previste dalla normativa, il numero delle armature diffuse e concentrate e la verifica delle fondazioni. In questo caso i risultati sono arbitrari, perché nell'esempio in esame non abbiamo modificato i materiali dei setti, che sono rimasti quelli della muratura ordinaria. Il contenuto delle finestre, sia testo che grafici, può essere esportato in vari formati e in diversi modi, compreso il copia e incolla. La tabella dei parametri dei colori permette di scegliere come rappresentare i risultati graficamente. La finestra dei parametri del grafico permette di scegliere la scala, la griglia di riferimento e la visualizzazione di tutti gli elementi del grafico e delle piante. Questo filmato mostra solo alcune delle funzionalità del programma. Per maggiori dettagli può essere consultato il manuale interno e Domus Wall può essere scaricato e provato scaricandolo dal sito di Interstudio. Grazie a tutti.